Come va? Ma... Maestro! Benvenuto, maestro. Che cosa ci sta preparando di bello, maestro? Scusi? Maestro di cosa? A che pensi? Devi convincerli che stai facendo un film bellissimo. Eestro, è pronto questo film? Come va il film su Casanova? Il problema è che io sto male, sto male, sto male. La verità è che tu il film non lo vuoi finire? Perché là fuori c'è la vita vera che ti aspetta! La vita vera. Altro che cinema. Sai cosa ha detto una volta Hitchcock? Per voi quello che ho fatto è solamente un film. Per me invece è tutta la vita. Adesso fammi ballare, regista. Per me invece è stra�lai io, Posso giocare